La sedentarietà si pone oggi al primo posto come fattore di rischio per la salute, ha superato il fumo. Quindi dobbiamo cercare assolutamente di attivarci ed è la comunità stessa che si deve attivare. Quindi anche le città, i paesi, le cittadine devono mettere in atto quanto possibile perché muoversi diventi facile. Quindi ci devono essere strade più sicure per i pedoni, per le biciclette, le zone verdi devono essere accessibili. Le zone verdi ci devono essere, devono aumentare, ma devono aumentare ed essere frequentate.